Manuel Bortuzzo provocato da Lulu Selassie al GF VIP, sono molto pungente Grande fratello VIP, Lulu Selassie provoca Manuel Bortuzzo, il botta e risposta al veleno In queste ultime ore Lulu Selassie ha fatto una maglietta Ad osservare la principessa all'opera c'erano anche Aldo Montano e Manuel Bortuzzo al GF VIP 6 Il primo ha subito voluto farle i più sinceri complimenti ritenendo la maglietta particolarmente carina, ma Manuel Bortuzzo l'ha invece stroncata Bella mera asterisco asterisco, sì A quel punto Lulu Selassie ha accolto l'occasione per provocare Manuel Bortuzzo del Grande fratello VIP con una battuta che ovviamente l'ha lasciato di sasso Sì, veramente, tanto è quella che indosserai tu quindi si addice al soggetto Manuel Bortuzzo ha quindi replicato un po' piccato, vabbè, sì, lasciamola parlare Lulu Eiles e Lassie dopo la battuta Manuel Bortuzzo al GF VIP 6, sono molto pungente Aldo Montano, vedendo un po' di tensione tra Lulu Eiles e Lassie e Manuel Bortuzzo al grande fratello VIP È immediatamente intervenuto per cercare di stemperare un po'? Difatti lo sportivo, con un mezzo sorriso stampato sul volto, si è rivolto a Lulu Se Lassie e asserendo, siamo pungenti è E quest'ultima, sul cui flerta ha espresso la sua opinione e il papà di Manuel, ha subito chiarito di star scherzando e di non essersela affatto presa Sono pungente, ma no dai, sto solo giocando, è su Manuel Bortuzzo al Lulu Eiles e Lassie e al grande fratello VIP, ho capito che stai giocando Manuel Bortuzzo ha poi confessato di aver capito chiaramente che Lulu Eiles e Lassie ha solo giocato in questa occasione E quest'ultima si è fatta una bella risata Che sia davvero un gioco oppure ci potrebbe essere davvero della tensione tra Lulu Eiles e Lassie e Manuel Bortuzzo al GF VIP 6? Chissà Intanto i telespettatori hanno dichiarato sui social di credere che questa distanza abbia fatto bene ad entrambi Vendendoli decisamente più tranquilli rispetto a giorni fa Grazie 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 Grazie